ciao sono Gianluca e grazie Archetravel a ottobre scorso ho viaggiato per l'Egitto otto giorni davvero indimenticabili soprattutto ben organizzati ringrazio Archetravel per avermi consigliato la visita extra programma da Abu Simbel davvero il sito più bello dell'Egitto e grazie ad Archetravel per l'organizzazione impeccabile per averci seguito fin dall'inizio dall'arrivo all'aeroporto a Luxor fino alla partenza dal Cairo grazie soprattutto anche alla guida locale che abbiamo avuto impeccabile perfetta ci ha fatto amare ancora di più l'Egitto e soprattutto parlava un italiano davvero impeccabile quindi davvero un'organizzazione indimenticabile grazie ancora